Episodio 36 del corso di C++, oggi vediamo come possiamo lavorare con i file. Di base andiamo a creare un file, eliminare un file, leggerlo, scriverci sopra in modo da sovrascriverlo e poi andiamo a scriverci in termini di appendere contenuto alla fine del file. Non perdiamo tempo e quello che dobbiamo andare a fare è innanzitutto importare, duplicate questa riga, andate ad importare fstream, nominate per cosa sta fstream, non fstream ma fstream, e file stream. Di conseguenza dobbiamo chiaramente utilizzare qualcosa legato ai file, finora non l'abbiamo mai guardati, di conseguenza non ci serviva, adesso ci serve. Detto questo direi che possiamo cominciare e la prima cosa che facciamo è creare un file. Di conseguenza std, due punti, due punti, e qua vedrete in questa lezione come diventa utile andare a fare using namespace std così, sarebbe molto molto comodo, per ora lo togliamo. Comunque facciamo std, ofstream, ecco qua, output file, perfetto, e qua rientra e mettere il nome del file che vogliamo, prova.txt. Che cosa abbiamo fatto qua? Allora, ofstream è il tipo di dato, output file è il nome dell'oggetto, in realtà va a chiamare un costruttore che richiede un parametro di tipo stringa, va bene? Quindi in realtà è come quando abbiamo fatto persona, persona 1, e qua dentro gli andiamo a mettere ad esempio Luca virgola rossi. È esattamente la stessa cosa, semplicemente questo persona è come se fosse std, due punti, due punti, persone, in questo caso è offstream, dopodiché abbiamo il nome che è output file, e poi abbiamo i parametri che ci servono, quindi niente di diverso da ciò che abbiamo già fatto. Adesso che abbiamo una cosa del genere, salviamo, faccio play, e vedete che qua, tempo che è stato lanciato, ci è impiegato un attimino, abbiamo prova.txt. Questo è il nostro file, abbiamo creato il file. Possiamo fare qualcosa di un filino messo meglio dal punto di vista stilistico, quindi potremmo dire if output file.isopen, ecco qua, quindi stiamo verificando se è aperto. Cosa facciamo? Andiamo subito a scrivere, punto, ci ficchiamo dentro ciao mondo, benissimo, se volete mettere slash n per andare a capo, e poi andiamo a chiudere output file, perché dobbiamo chiudere lo stream appunto con il file, se no resta aperto e chiunque può scriverci. Adesso vediamo questa cosa velocemente. Quindi direi che possiamo far ripartire. È stato creato il file e poi è stato scritto ciao mondo, quindi se output file è open, perché l'abbiamo creato, andiamo a scriverci dentro, dopodiché chiudiamo la connessione col file. Vi faccio vedere perché se io vado a duplicare qua, e non scrivo solo ciao mondo, ma scrivo tante cose strane, faccio così, io vi dimostro che facendo play, vedete che c'è solo ciao mondo. Se io non andassi a mettere la chiusura, ovviamente faccio play, e se vado a vedere ho anche la seconda riga. Quindi è importante, una volta che avete finito le operazioni con quel file, è importante andare a chiudere il file. Ma non volevo tanto spiegarvi la scrittura adesso, perché la rivediamo a breve, volevo spiegarvi come fare qualcosa di un filino più complesso da questo punto di vista. Quindi std, due punti, due punti, abbiamo cout, non count ma cout, e qua dentro voglio dire errore creazione file. Facciamo una cosa del genere. tac tac, std, endline, perfetto. Qui anziché scrivere, diciamo, il file è stato creato con successo, quindi file, spazio, creato. Anziché scrivere, abbiamo visto che funziona, facciamo una cosa del genere, allargo, faccio play, e vedete file creato. Nel caso in cui dovessimo avere problemi, andremo a mandare a schermo errore creazione file. Questa cosa ve la faccio vedere perché, perché se andate a fare un piccolo script in cui dovete lavorare con i file eccetera, all'utente dovete mandare la situazione in cui c'è stato un errore. Ehi, c'è stato un errore, il file non è stato creato. Può essere, esiste già, magari se state lavorando con quel tipo di file eccetera, o qualsiasi altra cosa. Magari dite, eh, guarda che il file non è stato creato, hai messo l'estensione sbagliata. Insomma, quando poi andrete a rendere gli script più complessi, sono tante le casistiche che potete voler gestire. Però in questo caso andiamo a vedere, con output file punto is open, verifichiamo che il file effettivamente esista. Proviamo a non mettere dentro niente, salvo, faccio play, e vedete errore creazione file. Perché? Perché output file fa riferimento a nessun file. Di conseguenza, non abbiamo un file aperto. E quindi, errore creazione file. Adesso, vediamo come leggere, eh, un file. Direi che, commentiamo un attimo questa, magari la duplichiamo. Semplicemente perché qua andiamo a utilizzare std, anziché off stream, utilizziamo if stream, quindi anziché output file stream, abbiamo input file stream. Perché output è il file che esce dal nostro programma, e va fuori. Mentre invece input file, è un file che già esiste, e che entra nel nostro programma. Va bene? Quindi cosa vogliamo aprire? Vogliamo aprire prova, che non ha assolutamente niente, noi scriviamo delle cose a caso così, e come seconda riga scrivo, Edoardo, mi dali giusto per far capire che, è la seconda riga. Qua dentro apriamo prova.txt, e adesso, andiamo a vedere se è aperto, if, queste sono cose aggiuntive, non siete obbligati a, a controllare ogni volta, però nel senso, ve lo sto spiegando per una questione di, ehm, best practice, quindi, se volete andare a fare questi controlli, ve li ho già spiegati, non dovete reinventare la ruota. Quindi andiamo a verificare, std string, anzi facciamo una cosa, andiamo a togliere tutti questi std, che ormai avete capito, cosa stiamo utilizzando, quindi possiamo togliere, std qua, std qua, e poi abbiamo le nostre string, quindi andiamo a creare, una stringa, che chiamiamo line, che è la riga, sarebbe linea, ma noi in italiano con linea, intendiamo quella geometrica, mentre invece in inglese line, può essere anche la riga del file. Detto questo, andiamo a fare un bel while, get line, eccolo qua, di che cosa? Del nostro input file, e ogni riga che troviamo, la associamo alla nostra variabile, adesso ve la spiego meglio sta cosa, non preoccupatevi. Cosa facciamo? Andiamo a mandare a schermo, see out, che cosa? La nostra linea, e poi end line, per andare a capo giustamente. Una volta che abbiamo finito tutta sta cosa qua, lo sapete che andiamo a chiudere il file, in input file punto close, facciamo così, chiudiamo anche il punto e virgola, e poi andiamo a mettere l'else banalissimo, se abbiamo avuto dei problemi, cosa facciamo? Errore, apertura, file, senza andare troppo per le lunghe, insomma con messaggi incredibili, facciamo così, andiamo a pulire, con un bel clear, ma andiamo a schermo, e abbiamo, vedete, la prima riga, e poi la seconda riga. Che cos'è successo? Cominciamo un attimo a togliere le cose in eccesso. If input file is open, perciò se input file, vedete qua, se abbiamo aperto lo stream, col nostro file di prova, quindi il programma sta parlando, sta comunicando, utilizzate questa metafora, con successo, con il file, allora siamo qua dentro, altrimenti c'è un errore. Togliamo questa parte che eccede un attimo ciò che voglio spiegarvi, salvo un filino, e riportiamo un attimo questa qua, giustamente abbiamo un problema che manca lì, ok, quindi questa è la parte becera di quello che abbiamo scritto. Abbiamo preso un input file, abbiamo preso prova, giustamente di tipo input file stream, perfetto, quindi dovete solo ricordarvi output file, input file, ecco perché si chiama output file qua, semplicemente perché qua c'è la O di output, è per semplificarci la vita, se chiamassimo O F stream input file, il nostro cervello comincerebbe a sbarellare un pochino. Detto questo, andiamo a creare una variabile line, riga, perché? Perché vogliamo andare col ditino a leggere ogni singola riga, prima riga, questo, scendo, seconda riga, questo, quindi col ditino, vedete, passo sopra, sotto, sopra, sotto, perciò questo è il risultato che vogliamo. Ora, finché, while, oppure mentre, mentre ci sono ancora righe qua dentro, cosa fai? Me le mandi a schermo. E poi chiudiamo il file una volta che abbiamo fatto il tutto, adesso ritorniamo su questa parte. Questo qua è molto semplice, mi mandi a schermo la riga, quindi riga per riga, va bene? Qua chiudiamo il file, adesso vi spiego questa. Il discorso è che, finché c'è una riga, la dice ad altavoce, perciò, riga 1, c'è la riga? Sì, allora, you, blah, 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 perfetto, vado sotto, c'è una riga? Sì, mandiamo a schermo, Evdoardo Midali, perfetto, vado sotto, non posso andare, non c'è più una riga. La condizione è falsa, si esce dal while, e una volta usciti dal while, chiudiamo la connessione con il file, e siamo a posto. La condizione del while è quella che ci interessa. While, get line, quindi finché prendi una linea, in questo caso è, se mi metto qua prendo una linea, sì, se mi metto qua prendo una linea, sì, se mi metto sotto prendo una linea, no, perché non posso mettermi sotto. Va bene? Quindi, finché prendo una linea dal mio input file, e ogni linea, oppure ogni riga, la associo alla mia line, lavoro con questa line. Ok? Quindi, si entra qua dentro, e dice, prendo il mio input file, c'è una linea? Sì, la associo direttamente a questa, e questa qua, la mando a schermo. vado avanti. C'è una linea? Sì, sono nella seconda linea, quindi associo qui, perfetto, mando a schermo, benissimo. C'è una linea? No, esco, chiudo la connessione con il file. Bam, cicli, l'abbiamo fatti, non dovrebbero essere un problema. Proseguiamo, e vediamo, prima di scrivere un file, vorrei andare a rimuoverlo direttamente, così celeviamo la parte dell'eliminazione, siamo a posto. ci basta fare remove, banalmente, e dentro scriviamo prova.txt, semplicemente questo, salvo, faccio play, e vedete che prova è diventato rosso, è stato cancellato, qua è scomparso, qua è stato mantenuto nell'editor, ma non c'è più qui, quindi l'abbiamo eliminato con successo, punto. Ci basta fare questo, in realtà remove arriva da std, perciò sarebbe std, due punti, due punti, in questo caso ho scritto solo remove, perché stiamo usando il namespace std per semplificarci la vita, mi raccomando a queste cose, perché se scrivete remove, e non avete using namespace std, vi dà errore, ovviamente l'abbiamo già visto, quindi ecco come rimuovere il file, velocemente, ma potremmo fare qualche chicca in più, perciò cosa potremmo fare? Un bel if, direi if, remove, cosa? Remove, vedete che tira fuori un intero, vedete? Come c'è scritto qua sopra, remove, file name, ma butta fuori un intero, quindi possiamo dire, se l'intero che viene mandato fuori, è zero, allora mandiamo a schermo, see out, eliminato, endline, altrimenti, se manda altro, a prescindere da quello che sia, a noi interessa zero, ok, tutto il resto, noi facciamo, errore, errore, eliminazione, tac, salviamo, proviamo a mandare a schermo, vedete errore eliminazione, perché? Perché non c'è prova txt, se io vado a creare ad hoc un prova punto txt, eccoci qua, io faccio partire di nuovo, eliminato, e vedete che è stato eliminato con successo, perfetto, quindi anche questa l'abbiamo gestita, adesso vediamo l'ultima parte, che è quella della scrittura del file, in questo caso dobbiamo riprendere output file, ok, input file non ci interessa, lavoriamo ancora con prova punto txt, e la cosa che vi faccio vedere innanzitutto, è la modalità con cui apriamo, vedete, open mode, questo è quello che ci interessa, la modalità con cui apriamo il file, in questo caso, iOS, letteralmente, due punti, due punti, e io voglio utilizzare trunk, trunk vuol dire truncate, se arrivate ad sql, trunk è quando svuota interamente la tabella, quindi che cosa abbiamo con trunk è, stiamo ripulendo il file appena lo apriamo, vi faccio vedere, se io vado a creare un prova punto txt sublime, qua dentro scrivo le cose più disparate che mi vengono in mente, chiaramente niente, non mi viene in mente niente perché sto facendo a caso con tastiera, io salvo, salvo qui, mando a schermo, vedete che è andato tutto come deve andare, ma prova è stato svuotato, ok? Quindi, se aprite con trunk, state svuotando il file, abbiamo altre due modalità che ci interessano, app, che sta per append, quindi, se abbiamo il nostro prova con una scritta qua, con append stiamo dicendo, tutto quello che hai già, me lo mantieni, io voglio continuare a scrivere sotto, voglio appendere alla fine, oppure, abbiamo, out, out, semplicemente sto scrivendo, voglio scrivere sul file, e cosa andrà a fare? Se abbiamo una cosa del genere, lo andrà a sovrascrivere. Ora, salviamo un attimo, cominciamo a fare out, e una volta che facciamo out, output file, e qua dentro scriviamo, ciao, sto scrivendo, con IOS out, così, ricordatevi poi di chiudere il file, a sto punto non è più input file, ma è output, eccoci qua, chiaramente potreste mettere l'IF output file is open, scriviamo, facciamo quello che dobbiamo fare, poi chiudiamo, altrimenti abbiamo avuto un problema con l'apertura del file, eccetera, teniamo le cose un po' semplici, tanto vi ho fatto vedere come fare quella parte, noi salviamo, e se io mando a schermo, vedete mi è dato tutto in check, andiamo a vedere, ciao sto scrivendo con IOS count, se io vado a rimettere le cose di prima, vedete qui, andiamo ad aprirlo a lato, vado qui, faccio play su questo file, e vedete che è stato sovrascritto, qual è la differenza tra trunk e out? trunk va ad aprire il file e lo svuota, out va a sovrascrivere il contenuto con altro contenuto, potremmo non mettere niente come contenuto, ok, quindi lo stiamo di base svuotando, però in realtà stiamo sovrascrivendo con dell'altro contenuto quello presente, in certi casi potremmo voler dire, guarda io voglio prima andare con trunk, quindi potremmo fare IOS trunk così, e poi vado a scrivere, va bene? vi dimostro quello che stiamo facendo, innanzitutto vado a sostituire qua così, salvo, dopodiché importo thread, e da thread, me lo sono già segnato a parte per non confondervi, che cosa faccio? vado a inserire questa riga, e anziché 5 secondi facciamo 2 secondi, std, crono, eccetera, questo vabbè abbiamo già std, perciò potremmo anche non scrivere, non è un problema, io salvo, mando a schermo, vedete che viene svuotato, e dopo 2 secondi ho scritto dentro, che cos'è successo? esattamente quello che vi ho detto, ho aperto il mio file, in modalità trunk e out, quindi scrittura, ma anche truncate, ho fatto aspettare il programma 2 secondi, con crono, seconds 2, quindi aspetti 2 secondi, una volta che hai finito di sleep, di dormire, che cosa fai? mi scrivi qua dentro, quindi ho svuotato tutto, all'apertura, e poi ho scritto, se avessi solo tenuto trunk, svuotavo e basta, se avessi aperto con out, avrei direttamente sovrascritto le cose, ora, direi che crono non ci serve più, ora vediamo append, se io faccio iOS append, salviamo, vado qua in prova, riscrivo le mie cose, ta ta ta, salvo, apro a lato, vado qui, faccio partire, e vedete che mi ha appeso, praticamente, avete visto? mi ha praticamente appeso, quindi cosa avremmo dovuto fare? magari uno slash n, così, avrebbe avuto un po' più senso, riproviamo, tolgo qua, salvo, salvo di qui, faccio partire, vedete, slash n, giustamente ho fatto uno spazietto che non devo fare, quindi riproviamo, togliamo questo, facciamo così, salviamo qua, faccio ripartire, e vedete che mi manda seconda riga, e scrive, quindi append, appende sotto, out, sovrascrive, trunk, pulisce, va bene? quindi questa era un'introduzione su come lavorare con i file, direi che abbiamo coperto anche questa parte con successo, spero sia tutto chiaro, proseguiamo perché mancano pochissimi video, non perdiamo tempo, siamo quasi alla fine, ci vediamo tra poco.